La sera Sarà anche questa sera notizie sensazionali, particolari L'abbiamo spito con il sommario Ci colleghiamo in onda satellitare, siamo in onda satellitare Con il nostro inviato Buonasera, alla stazione mobile di Secondigliano In modulazione di frequenza live, live, live Raffi tra gli appiotti per le sale e la febbre sotto le stelle E i tipi dei pioni, 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 pioni L'urno del rock, rock senza paura Rock metropolitano, tutti periferi Questa è la nostra protesta Raccontiamo i nostri disagi I nostri disagi Ultime notizie, ultime notizie Notizie sensazionali, notizie sensazionali Edizione straordinaria, edizione straordinaria Ultime notizie, ultime notizie Notizie sensazionali, ultime notizie Notizie sensazionali, ultime notizie sensazionali Uno, 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 sei, sei, sette, sette Sono avversuto nella 160, sette di secondia Uno, uno, sei, sei, sette, sette Concentrazione ad alto rischio, potenziale ad alto rischio Ultime notizie, ultime notizie Notizie sensazionali, notizie sensazionali Edizione straordinaria, edizione straordinaria Ultime notizie, ultime notizie Notizie, ultime notizie Notizie la prima pagina da telegiornali Butto la sera più questa sera, butto la sera più questa sera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti